Libro della Genesi, capitolo 41 Ora le vacche brutte di aspetto e scarne divorarono le sette vacche di bell'aspetto e grasse. Quindi il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò una seconda volta. Ed ecco, sette spighe grosse e belle venne il sud da un unico stelo. Poi ecco, sette spighe sottili e arse dal vento orientale, germogliare dopo di quelle. E le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grosse e piene. Allora il faraone si svegliò ed ecco, era un sogno. Al maltino il suo spirito era turbato e mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto. Quindi il faraone raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu alcuno che li potesse interpretare al faraone. Allora il capo coppiere parlò al faraone dicendo, ricordo oggi i miei falli. Il faraone si era dirato con i suoi servi e mi aveva fatto mettere in prigione in casa del capo delle guardie, me e il capo panettiere. Entrammi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui. Ciascuno fece un sogno con il suo proprio significato. Ora con noi vi era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero esattamente secondo l'interpretazione da lui dataci. Il faraone ristabilì me nel suo ufficio e fece impiccare l'altro. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe, che fu subito tratto fuori dalla prigione sotterranea. Così egli si rase, si cambiò le vesti e venne dal faraone. Il faraone disse a Giuseppe, ho fatto un sogno e non vi è alcuno che lo possa interpretare. Ora ho sentito dire di te, che tu puoi intendere un sogno per interpretarlo. Giuseppe rispose al faraone dicendo, non sono io, ma sarà Dio a dare una risposta per il bene del faraone. Allora il faraone disse a Giuseppe, ecco, nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume. Quando ecco salire dal fiume sette vacche grasse di bel aspetto e mettersi a pascolare tra i giunchi. Dopo quelle ecco salire altre sette vacche magre, bruttissime di aspetto e scarne, tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. E le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche grasse, ma anche dopo che le ebbero divorate, nessuno poteva riconoscere che le avevano divorate, perché esse erano di brutto aspetto come prima. Così mi svegliai. Poi vidi nel mio sogno sette spighe venire su da un unico stelo, piene e belle. Ed ecco altre sette spighe abbizzite, sottili e arse dal vento orientale, germogliare dopo di quelle. Quindi le spighe sottili inghiottirono le sette spighe belle. Io ho raccontato questo ai maghi, ma non vi è stato alcuno capace di darmi una spiegazione. Allora Giuseppe disse al faraone, i sogni del faraone sono uno stesso sogno. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle sono sette anni e le sette spighe belle sono sette anni. È uno stesso sogno. Anche le sette vacche magre e brutte che salivano dopo di quelle sono sette anni. Come pure le sette spighe vuote e arse dal vento orientale sono sette anni di carestia. Questo è quello che ho detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Ma dopo questi verranno sette anni di carestia e tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto. E la carestia consumerà il paese. E nel paese non si ricorderà più per la precedente abbondanza, a motivo della carestia che seguirà. Perché questa sarà molto dura. Il fatto poi che il sogno sia stato dato al faraone due volte vuol dire che la cosa è decretata da Dio e Dio la farà accadere presto. Or dunque cerchi il faraone un uomo intelligente e savio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così. Costituisca sul paese dei soprintendenti per prelevare il quinto dei prodotti del paese d'Egitto durante i sette anni di abbondanza. Radunino essi tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire e ammassino il grano sotto l'autorità del faraone. E lo conservino nell'approvvigione della città. Questi viveri saranno una riserva per il paese. In vista dei sette anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto. Così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacqua al faraone e a tutti i suoi funzionari. Il faraone disse ai suoi funzionari Potremmo noi trovare un uomo come questo in cui ci sia lo spirito di Dio? Allora il faraone disse a Giuseppe Perché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo. Non vi è alcuno che sia intelligente e savio come te. Tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Il faraone disse a Giuseppe Vedi io ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse il suo anello dalla mano e lo mise sulla mano di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece quindi montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava In ginocchio! Così il faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto. Inoltre il faraone disse a Giuseppe Il faraone sono io ma senza di te. Nessuno alzerà la mano e il piede in tutto il paese d'Egitto. E il faraone chiamò Giuseppe col nome di Sonufat Banea E gli diede in moglie Asenat, figlia di Potifar, sacerdote di On. E Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Ora Giuseppe aveva trent'anni quando si presentò davanti al faraone re d'Egitto. Quindi Giuseppe lasciò la presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante sette anni di abbondanza la terra produsse copiosamente. E Giuseppe radunò tutti i vivere di quei sette anni prodotti nel paese d'Egitto E ripose vivere nelle città. E in ogni città ripose vivere nel territorio circonvicino. Così Giuseppe ammassò gran numero di sabbia come del mare In così gran quantità che si smise di tenere i conti perché era incalcolabile. Prima che venisse l'anno della carestia Nacquero Giuseppe due figli che Asenat, figlia di Potifar, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse perché disse Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. Al secondo invece pose nome di Efraim perché disse Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. I sette anni di abbondanza che vi furono nel paese d'Egitto finirono E cominciarono a venire sette anni di carestia come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi ma in tutto il paese d'Egitto vi era del pane. Poi tutto il paese d'Egitto cominciò ad aver fame E il popolo gridò al faraone per avere del pane. Allora il faraone disse a tutti gli egiziani Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà. La carestia si era sparsa sulla superficie di tutto il paese E Giuseppe ha perso tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. Ma la carestia si aggravò nel paese d'Egitto. Così la gente di tutti i paesi veniva in Egitto da Giuseppe Per comprare del grano perché la carestia era grave in tutta la terra. Libro della Genesi capitolo 41 Libro della Genesi capitolo 42 Or Giacobbe venendo a sapere che vi era del grano in Egitto Disse ai suoi figli Perché vi state a guardare l'un l'altro? Poi disse Ecco ho sentito dire che vi è del grano di Egitto Andate laggiù e comprateci del grano di là Affinché possiamo vivere e non abbiamo a morire. Così i dieci fratelli di Giuseppe Scesero in Egitto per comprarvi del grano. Ma Giacobbe non mandò Beniamino, fratello di Giuseppe, con i suoi fratelli Perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia. I figli di Israele giunsero dunque per comprare del grano In mezzo agli altri arrivati Perché nel paese di Canaan vi era la carestia. Or Giuseppe era il governatore del paese Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese E i fratelli di Giuseppe vennero e si prostarono davanti a lui Con la faccia a terra Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe Ma si comportò come un forestiero con loro E usò parole dure con loro E disse loro Da dove venite? Essi risposero Dal paese di Canaan per comprare i viveri Così Giuseppe riconobbe i suoi fratelli Ma essi non riconobbero lui Giuseppe allora si ricordò dei sogni Che aveva fatto intorno a loro e disse Voi siete delle spie Siete venuti per vedere i punti indifesi del paese Essi gli risposero No signor mio I tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri Siamo tutti figli di uno stesso uomo Siamo gentonessa I tuoi servi non sono delle spie Ma egli disse loro No Voi siete venuti Per vedere i punti indifesi del paese Allora essi dissero Noi tuoi servi siamo dodici fratelli Figli di uno stesso uomo nel paese di Canaan Ed ecco il più giovane è oggi con nostro padre E uno non è più Ma Giuseppe disse loro La cosa è come vi ho detto Siete delle spie Ecco come sarete messi alla prova Com'è vero che il faraone vive Non uscirete di qui Prima che il vostro fratello più giovane Sia venuto qui Mandate uno di voi A prendere il vostro fratello E voi resterete qui in carcere Perché le vostre parole Siano messe alla prova E si veda se c'è della verità in voi Altrimenti Com'è vero che il faraone vive Siete delle spie Così li mise assieme in prigione Per tre giorni Il terzo giorno Giuseppe disse loro Fate questo e vivrete Io temo Dio Se siete gente onesta Uno di voi fratelli Resti qui incatenato nella nostra prigione E voi andate a portare il grano Per la fame delle vostre famiglie Poi Conducetemi qui Il fratello più giovane Così le vostre parole saranno verificate E voi non morirete Ed essi fecero così Allora si dicevano null'altro Noi siamo veramente colpevoli Nei confronti di nostro fratello Perché vendemmo l'angoscia Dell'anima sua Quando egli ci supplicava Ma non gli demmo ascolto Ecco perché ci è venuta addosso Questa sventura Ruben rispose loro dicendo Non ve lo dicevo io Non commettete questo peccato Contro il fanciullo Ma non mi deste ascolto Perciò ecco Ora si che ci chiede conto Del suo sangue Essi non sapevano Che Giuseppe li capiva Perché fra lui e loro Vi erano interprete Allora egli si alentano da loro E pianse Poi ritornò presso di loro E parlò con loro E prese far loro Simeone E lo fece incatenare sotto i loro occhi Poi Giuseppe ordinò Di riempire di grano i loro sacchi E di rimettere il denaro Di ciascuno nel suo sacco E di dare loro provviste per il viaggio E così fu fatto Essi caricarono quindi il loro grano Sui loro asini E se ne andarono Ora nel luogo dove Pernottavano Uno di essi Aperse il suo sacco Per dare del foraggio Al suo asino E vide il proprio denaro Ed ecco Che stava alla bocca Del suo sacco Così disse ai suoi fratelli Il mio denaro Mi è stato restituito Eccolo qui Nel mio sacco Allora il cuore Venne loro meno E tutti spaventati Dicevano l'un l'altro Che è mai questo Che Dio ci ha fatto Così giunsero da Giacobbe Il loro padre Nel paese di Canaan E gli raccontarono Tutto quanto era loro accaduto Dicendo L'uomo Che è il signore del paese Ci ha parlato aspramente E ci ha trattato Come spie del paese E noi abbiamo detto Siamo gente onesta Non siamo delle spie Siamo dodici fratelli Figli di nostro padre Uno non è più E il più giovane E oggi con nostro padre Nel paese di Canaan Ma che l'uomo Signore del paese Ci ha detto Da questo conoscerò Se siete gente onesta Lasciate presso di me Uno dei vostri fratelli Prendete del grano Per la fama Delle vostre famiglie E andate Poi portatemi Il vostro fratello più giovane Così conoscerò Che non siete delle spie Ma gente onesta Io vi renderò Il vostro fratello E voi potrete Commerciare nel paese Or come essi Vuotavano i loro sacchi Ecco che l'involto Del denaro di ciascuno Era nel suo sacco Così essi E il loro padre Videro gli involti Del loro denaro E furono presi Da paura Allora Giacobbe Il loro padre Disse Voi mi avete privato Dei miei figli Giuseppe non è più Simeone non è più E mi volete togliere Anche Beniamino Tutto questo Ricade su di me Ruben disse Suo padre Se non te lo riporto Fa morire i miei due figli Affidola a me Io te lo ricondurrò Ma Giacobbe rispose Il mio figlio Non scenderà con voi Perché il suo fratello È morto E questo solo È rimasto Se gli succedesse Qualche disgrazia Durante il viaggio Faresse scendere Nel dolore E la mia Canizzi nella tomba Libro della Genesi Capitolo 42